Domenica 3 luglio alle ore 20 presso Villa Chimera in via Emilia 26 a Torrazzacoste si terrà una serata intitolata Con Luca, una sera d'estate e un viaggio tra musiche e parole che sarà dedicata alla memoria di questo ragazzo straordinario, insomma io non l'ho conosciuto ma leggendo i racconti dei genitori che si possono consultare su internet si può facilmente intuire e sono qui proprio con i genitori di Luca e signori Bassi, grazie per aver accettato il nostro invito dunque voi avete fondato in seguito alla scomparsa di vostro figlio un'associazione che si intitola Luca per non perdersi nel tempo quali sono gli obiettivi di questa importante, direi, iniziativa? Gli obiettivi dell'associazione che è nata nel 2013 perché Luca è mancato nel novembre del 2011 poi nel 2012 gli amici di Torrazza in modo particolare Manolo, Massimo Campor, Giulia Pastore e Sandro Gaiotti avevano chiesto se, perché si svolgeva sempre la giornata dello sport a Torrazza e allora hanno chiesto a noi se potevano intitolare quella giornata dello sport a memoria Luca Bassi e noi abbiamo detto sì e da lì è partita tutta la cosa dunque la nostra associazione ha lo scopo di aiutare la ricerca, PaviaIL che è la sezione pavese dell'AIL nazionale e che ha come scopo la ricerca per combattere, per cercare di vincere i linfomi, i mielomi e leucemie noi abbiamo un'associazione che è a partitica, politica, per noi la politica non esiste nell'associazione bisogna sapere che la malattia non conosce centro, destra o sinistra la malattia è universale quindi cerchiamo di dare tutto quello che possiamo e con l'aiuto di tantissimi amici abbiamo fatto tante cose abbiamo aiutato PaviaIL in tutti questi anni e quindi questa serata è una serata come ne abbiamo fatto altre per cercare di raccogliere fondi da donare poi all'AIL per la ricerca Ecco a proposito di questa serata ricordiamolo sarà il 3 luglio a Torrazza Coste la raccolta fondi certo ma ci sarà anche dello spettacolo, dell'intrattenimento vogliamo dare qualche anticipazione? Le va di raccontarcela? Ok, prima di tutto volevo aggiungere a quello che ha detto Lorenzo che l'associazione è nata su volere di Luca perché Luca quando era negli ultimi giorni della sua vita ma pensando di guarire aveva detto quando guarirò farò un'associazione si chiamerà Luca per non perdersi nel tempo aveva già scelto il nome e tutto e aiuterò la ricerca e questa ematologia di Pavia per cui noi abbiamo esaudito quello che lui desiderava ecco e anticipazioni sulla serata non ci sarà la solita camminata sarà una camminata virtuale la gente lo scoprirà quando verranno qui cosa sarà e siamo al quinto anniversario da che Luca è mancato per cui lo vogliamo ricordare nel modo più bello cercando di aiutare tutti ci sarà musica ci saranno Giorgio e Meri Macellari ci sarà Ermanno Caletroni ci sarà Ilaria Fontana ci sarà il soprano Elisabeth Nosotti un pianista Paolo Marconi e un tenore Ennio Bellani perché so che Luca era appassionato di musica classica o sbaglio? molto, tanto è vero che due sere prima di morire Luca cantava il notturno di Chopin numero due ecco, so che durante la serata gli ospiti, coloro che interverranno riceveranno anche un braccialetto un gesto simbolico ma che ha anche un significato particolare, vero? ha un significato molto particolare che lo può dire bene Piera perché ha proprio scritto stamattina su Facebook e lo indossa anche questo braccialetto il braccialetto è questo, è un braccialetto che va indossato da tutti perché è fosforescente e si carica alla luce poi durante la serata servirà il significato di questo bracciale l'ho scritto questa mattina su Facebook bracciale, scritto braccia, staccato le che vuol dire le braccia di Luca che vi avvolgeranno in un abbraccio e ci porteranno dove lui vorrà grazie ed è un abbraccio reciproco sicuramente domenica 3 luglio alle ore 20 presso Villa Chimera Torrazzacoste grazie mille davvero grazie a voi grazie a voi grazie e grazie a tutti gli intervenuti domenica grazie